Davide Bartolini e Roberto Selva attorno da Montalcino con un ottimo piazzamento a pochi secondi dal podio, soddisfatti della prestazione e di aver effettuato la gara test con ottimi feedback in funzione campionale. Il loro quinto posto forse sta un po' stretto ai portocolori della MDM Racing, ma la classe in cui sono impegnati con la Peugeot 208 Rally 4 è oltremodo competitiva e numerosa. 17 gli equipaggi al via nella classe Rally 4 erano a Montalcino per due giorni intensi, di estremo interesse, dove hanno fatto rivivere agli appassionati le geste degli equipaggi impegnati nel rally mondiale su queste bellissime, tecniche e uniche prove speciali. Grande lavoro della V-Sport Rally Team di Piacenza, che con i suoi tecnici e lo staff hanno eseguito le regolazioni ed effettuato le varie modifiche per far testare la 208 Rally 4 a Davide. Un lavoro preziosissimo per lo sviluppo della vettura, in funzione del pilota. Davide Bartolini ha fatto così tesoro delle sensazioni e risultati ottenuti nei chilometri speciali effettuati e supportato da Roberto Selva, che ha contribuito non poco con professionalità e esperienza a dare tranquillità e serenità al pilota, che ha messo a frutto il tutto per fare ulteriore esperienza. Un pacchetto ben amalgamato che riuscirà a fare la differenza. La squadra V-Sport con la competenza e disponibilità è capace di mettere a disposizione del pilota di Cigiano una vettura impeccabile, sempre al top della preparazione, con la qualità di intercettare le esigenze dello stesso, ma anche di ricercare la migliore soluzione, con preziosissimi consigli e dedicazioni. Mentre Roberto Selva, navigatore professionale con pagaglio tecnico ed esperienza straordinaria, riesce sempre ad essere preciso e puntuale, non solo nel suo lavoro di leggere note, ma nel supporto e nei consigli per Davide, quindi figura essenziale e indispensabile per la crescita circostanza di rendimento del pilota. Non ultimo, tutto lo staff che lavora nell'ombra, ma che è insostituibile apporto a colorlario di tutta l'attività della MDM Racing. Per destra 5, 100, prima del bianco, anticipa a sinistra 3, anticipa a sinistra 3, per destra meno pende, 50, sinistra 4 lunga mossa, sinistra 4 lunga mossa, per destra 5 meno, 100, 5 meno più di 3 allo spiazzo, 4 più di 3 allo spiazzo, 50, sinistra 4, in destra 3 corta, molta attenzione interno, destra 3 corta, 30, dosso a sinistra 4 scende, in destra 4 vai, 50, in destra 4 vai, 50, dosso dritto, 100. Sparigalizazione Per stagionare Sicure Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.